Vincenzo Acunzo, un ministero dell'interno, si è appena concluso l'assemblea annuale di Assi 2014 qui a Sicurezza 2014 a Milano. Quali le novità introdotte dal DM 115 nell'ottica dell'evoluzione obbligatoria oramai della vigilanza privata? Ma è piuttosto semplice. L'evoluzione portava a rendere gli istituti di vigilanza più consapevoli e soprattutto impegnati in prima persona nell'autocertificazione e nell'autocontrollo. Il meccanismo introdotto dal DM 115 è un meccanismo che vuole affidare al diretto interessato l'attività di controllo perché di fatto se la paga rivolgendosi a un organismo di certificazione. Noi come ministero dell'interno riconosciamo l'organismo di certificazione, lo inseriamo in un elenco e da quell'elenco solo può essere tratto l'organismo che va a fare il controllo. Il certificato rilasciato dall'organismo non è però una patente assoluta. La potestà di controllo resta sempre comunque in mano al prefetto che valuterà l'esistenza del certificato come un elemento positivo. La mancanza o la sospensione di un certificato come un campanello d'allarme per poter attivare le iniziative necessarie per verificare la concreta operatività di un istituto di vigilanza. Dal suo punto di vista il livello e quindi l'iter per gli istituti di vigilanza in Italia a che punto è in questo? Oggi gli istituti di vigilanza dovrebbero essere pienamente adeguati al DM269. Abbiamo fatto un monitoraggio che si è chiuso in queste settimane quindi gli esiti li stiamo ancora valutando ma dovremmo avere un sistema sano e diciamo più o meno omogeneo. Su questo sistema si va a inserire la certificazione operata dai privati e questo dovrebbe semplicemente dare un vantaggio perché rende più certo il controllo, più efficace, più immediato e quindi consente alle aziende sane, a coloro che sono pronti a recepire le disposizioni di legge, ad emergere tra quelli che magari sono un po' più lenti a non rispettare norme. Proprio su queste parole si può collegare anche il riferimento del Vice Ministro Bubbico che diceva che è imprescindibile la presenza della vigilanza privata negli aeroporti, nei porti e nelle infrastrutture critiche. Oggi la vigilanza privata è imprescindibile dappertutto. Dalla storica scorta ai furgoni postali, quindi al trasporto valori e agli aeroporti, ai porti, all'antipirateria e quindi anche alle possibilità future, quando parliamo di tutela alle persone, piuttosto che qualcuno ha cominciato a ventilare la gestione delle carceri. Insomma, le prospettive sono tante. Il dato di fatto è che oggi non c'è sicurezza se non c'è una sinergia concreta tra pubblico e privato. Benissimo. Tra l'altro noi che abbiamo anche una visione europea, abbiamo appena terminato un incontro con la Federazione Europea di Security Manager ci portano esperienze che dall'estero sono molto più avanti rispetto all'Italia. Ci allineeremo velocemente anche noi? Velocemente, insomma, va sempre calato nella nostra realtà. Noi partivamo da una legislazione del 31, difficile fare il paragone, non so, con il Regno Unito, dove appunto c'è la gestione delle carceri. Ci stiamo comunque sicuramente adeguando al sistema europeo, che non è, attenzione, conforme e omogeneo dappertutto. Oggi direi che l'Italia rappresenta un buon livello di sicurezza e soprattutto un buon livello di partenariato pubblico-privato.